Oggi intervistiamo In due parole, perché il ciclismo? L'atletta avversaria che stimi maggiormente e che conosci Polin Ferran Prevaux Sogno di indossare la maglia azzurra C'è qualcosa che vorresti dire liberamente che non va del ciclismo femminile? Alle Miss preferirei Mister A chi vorresti dedicare la prima vittoria? Alla mia famiglia Cosa pensi del doping? Doping? Se dico Brunello Fanini, cosa mi dici? È un film Chi tra le tue compagne, credi, farà un grande 2015? Siamo un grande team, tutte faremo un buon 2015 Cosa prometti? Oppure ti aspetti da questo anno? Prometto di dare il meglio e spero di crescere tanto Facci vedere la tua espressione quando sei concentrata e cattiva Come primo di una gara Ora un'espressione dopo una gara Quando sei soddisfatta Saluta chi ci segue e nel mondo che ti pare Nina Gulino Una scoperta piacevole Un atleta che sicuramente si farà vedere nelle corse di un giorno Per il momento Sono molto soddisfatto di lei Vi accorgerete chi è Grazie a tutti